Terra amara. Dopo la tragica morte di Akan per mano di Betul, Zuleya si ritrova immersa nella desolante realtà di essere vedova per la terza volta. Nell'abisso della sua devastazione, il suo cuore geme il dolore per la perdita del marito, mentre implora confusa a Fikret «Cosa devo fare ora?». Nel tentativo di consolarla, Fikret le ricorda l'importanza cruciale di essere presente per i suoi figli, di rimanere saldo per loro. Ancora in uno stato di shock, Zuleya ammette di essere completamente persa nel dover affrontare l'organizzazione del funerale. Ma Fikret la rassicura, promettendo di prendersi cura di ogni dettaglio, invitandola a cercare un momento di respiro. Con le lacrime agli occhi, Zuleya esce dall'ospedale, riflettendo amaramente sulla crudele imprevedibilità della vita. Ogni essere sembra avere un motivo per vivere, ma per lei l'amore è diventato solo una fonte di tragedie. Preoccupato per il cupo stato d'animo di Zuleya, Fikret le chiede il motivo del suo amaro pensiero. Con un tono di amarezza, Zuleya risponde «Ho amato e sono stata amata. Posso sopportare questo dolore. Ma non credo che riuscirò mai più a sorridere. Chi ho amato non può più farlo. Forse il destino mi sta indicando una nuova strada da percorrere». Riflettendo sul suo passato e sulle improbabili circostanze che l'hanno portata a diventare una figura di così grande rilievo, Zuleya confessa con una mistura di meraviglia e perplessità. «Com'è possibile che una semplice figlia di un sarto della capitale si ritrovi qui con tanto potere? Sucurova mi ha accolta e mi ha fatto sua leader senza che io facessi nulla per meritarmelo». Con dolcezza, Fikret la rassicura, sottolineando che il suo cuore puro e la sua forza interiore sono le vere ragioni per cui è giusto che lei guidi la comunità. Con un abbraccio, cerca di offrire conforto a Zuleya, visibilmente distrutta dalla recente tragedia. Un velo di tristezza avvolge Lufti, Zainep e Geli altri impiegati mentre piangono la morte di Hakan. Nel mezzo del dolore collettivo, Fikret e Zuleya fanno la loro comparsa. Lufti si avvicina subito a Zuleya, esprimendo il suo cordoglio. Zainep si rivolge a lei con parole sincere. «Zuleya, mi dispiace tanto! Non posso nemmeno immaginare il dolore che stai provando. Ti auguro tutta la forza possibile in questo momento difficile». Poco dopo, l'atmosfera si carica ulteriormente quando arriva il procuratore. Si avvicina a Zuleya e le comunica che le autorità stanno facendo il possibile per arrestare Betula al più presto, assicurandole che la giustizia sarà fatta. Questa notizia scatena un coro unanime di indignazione tra i presenti, tutti esprimendo il desiderio ardente che l'assassina venga catturata e paghi per il suo vile crimine. In un'atmosfera tesa, Shermin si trova in un locale all'aperto. Quando inizia a udire i commenti delle persone attorno a lei, che sussurrano «hanno sparato al signor Hakan, è stata Betul», il suo cuore gelido di terrore. Ma chi è Betul? La figlia di Shermin, la sua unica figlia, una ragazza dall'aspetto seducente con gli occhi azzurri. Queste parole la colpiscono come un pugno nello stomaco, rendendo tangibile la gravità della situazione. Realizzando che la gendarmeria sta cercando sua figlia ovunque, Shermin reagisce istintivamente. Si mette gli occhiali e si avvolge il capo in un fular per nascondere la propria identità, e dopo aver pagato il conto con un gesto rapido, si allontana furtivamente, sperando di sfuggire agli sguardi indagatori. Nel frattempo, in una sequenza carica di tensione, Betul è in fuga, guidando a tutta velocità un'auto che ha appena rubato. Il suo piano era quello di uccidere Zuleya, ma in una tragica fatalità ha finito per uccidere Hakan. La disperazione e il panico guidano ogni suo movimento, mentre cerca freneticamente di sfuggire alle conseguenze del suo gesto. Sul balcone della villa Yaman, il cuore di Zuleya è pesante di tristezza, mentre guarda l'orizzonte di Sukurova con le lacrime, agli occhi. Esprime i suoi sentimenti contrastanti. «Sukurova, sei stata la tomba dei miei sogni e delle mie speranze. Ma mi hai anche dato nuovi sogni. Qui ho avuto due meravigliosi figli, anche se non mi hai concesso ciò che il mio cuore desiderava veramente. Mi hai tracciato un percorso e lo seguirò d'ora in poi. Sarà solo io e te. Sarai la mia compagna e io sarò la tua, Sukurova». Dopo queste parole, Zuleya si ritira nella sua stanza ancora piangendo. Lutfi è sempre presente e attenta, la segue e le offre parole di consolazione. Le consiglia di lasciare fluire liberamente le lacrime, dicendole che piangere è un modo per guarire. Zuleya è l'unico modo per liberarci di ciò che sentiamo dentro. Pur riconoscendo la verità in queste parole, Zuleya ammette che il suo dolore sembra insuperabile. Con gentilezza, Lutfi le dice che il dolore che prova ora è profondo e non c'è un rimedio immediato, ma con il tempo anche questo si dissolverà. Ascoltando, Zuleya si lascia andare in un pianto disperato, sopraffatta dal lutto per la morte del marito per mano di Betul. Sherman si trova in una situazione estremamente difficile. Senza soldi e senza un luogo dove dormire, è costretta a rubare cibo ai braccianti delle baracche e a cercare rifugio in luoghi nascosti per passare la notte senza essere scoperta. Nel nascondiglio di Kadir, Betul arriva in un'atmosfera carica di tensione. Rivela che il piano originale era quello di uccidere Zuleya, ma Hakan si è interposto nel tentativo di proteggerla, finendo per diventare lui la vittima. Esprime il timore per le possibili conseguenze del suo gesto, ma Vap la tranquillizza, ammettendo che anche lui desiderava uccidere Hakan. Kadir interviene, dicendo che Hakan li ha traditi mettendo la polizia sulle loro tracce, ma ora che è morto lo perdona, chiudendo così un capitolo turbolento che ha segnato profondamente le loro vite. Alla villa Yaman, l'arrivo del carro funebre segna un momento di profondo dolore. Zuleya, avvolta nella tristezza, osserva il carro con occhi colmi di lacrime, accompagnata da Fikret mentre si dirigono verso Izmir per dare l'ultimo addio a Hakan. Durante il viaggio, Zuleya coglie l'occasione per ringraziare Fikret, confessando che senza il suo sostegno non avrebbe potuto superare questo momento così difficile. Con semplicità, Fikret risponde che è stato un piacere aiutarla. Giunti al cimitero di Izmir, trovano già presenti gli amici di Hakan, pronti a rendere omaggio. Non appena Zuleya e Fikret raggiungono il luogo con il carro funebre, Gungor, il capo di Hakan, si avvicina esprimendo le sue condoglianze. Signora, abbiamo perso un uomo molto prezioso. Hakan ci ha lasciati. Gli amici di Hakan portano la bara sulle loro spalle verso la tomba, mentre Zuleya osserva la scena con il cuore colmo di dolore. Gungor, posando un mazzo di fiori sulla tomba, rende omaggio al suo amico. Questo paese ti deve molto, Hakan. Non sarai mai dimenticato. Riposa in pace. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti e riceverai in anteprima il nuovo video. Grazie a presto.